Modena, 16 settembre 2018, momento d'oro per Davide Rossi, il figlio del rocker di Zocca, Vasco Rossi. Il cantautore, attore, autore e DJ italiano classe 1986 è owner con il suo primo singolo A morire ci penso domani e tra poche ore debutterà su canale 5 nel reality Temptation Island Vipo. Il 32enne con un padre indombrante come il Blasco da diverso tempo cerca di trovare un suo posto nel mondo dello spettacolo. In passato, infatti, ha recitato in serie tv e film lo si è visto in albacara di Stefano Salvatier, sempre nel 2008, in Scusa ma ti chiamo amore dove interpretava il fidanzato lasciato da Michela Quattrociocche. Inoltre, come autore ha scritto brani per altri cantanti Valerio Scano in particolare. Adesso è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Sul fronte musicale è appena uscito, in radio e su tutte le piattaforme digitali. A morire ci penso domani, brano scritto da Lorenzo Mastropietro, primo singolo cantato da Rossi Jr. che anticipa l'uscita del suo album. Il brano ha una forza crescente e per niente scontata, è una ballad struggente che Davide Rossi racconta così è un brano che descrive la mia vita una metafora che esprime l'amore tra luce e oscurità tra il bene e il male. Il conflitto eterno che vive dentro ognuno di noi. In poche parole questa canzone è il mio biglietto da visita dice il figlio del cantante Emiliano. Ma oltre la voce c'è di più. Davide Rossi è anche un bel ragazzo capelli biondi, occhi chiari, fisico muscoloso e palestrato. E, infatti, è stato arruolato tra i tentatori del docuri Elite Temptation Island VIP che andrà in onda da martedì 18 settembre, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è la versione celebrity del collaudato viaggio nei sentimenti dove sei coppie di fidanzati si mettono in gioco per testare il loro rapporto. A mettere in difficoltà le coppie sono, appunto, i tentatori e le tentatrici. A Rossi Junior, quindi, spetta il compito di far breccia nel cuore di qualche fidanzata. Secondo le indiscrezioni del settimanale oggi, il figlio del cantante si racconterà a 360 gradi tanto che farà commuovere il pubblico con il suo passato tormentato. Il grande giorno è quasi arrivato. Vi aspettiamo martedì 18 settembre alle 21,10 su Canale 5 per la prima imperdibile puntata di Cancelletto Temptation Island VIP. Un post condiviso da Temptation Island chiociola Temptation Island sottolineatura official in data 712, 2018 e Un post condiviso da Temptation Island. Grazie a tutti.